Colorare il giardino anche in città con piante resistenti e che garantiscano magari anche del risparmio idrico perché quella dell'acqua è una tematica sempre più importante e dunque uno dei trend che stanno guidando anche i consumatori. Dalla Sicilia scopriamo le novità di Milagros. Ecco, quali sono le vostre ultime novità? Parlando appunto di una tipologia di piante tipicamente che consuma poco acqua e questo è il problema che ci preme di più, volevo farvi vedere l'oleandro, è una pianta che si presta benissimo un pochino in tutte le zone d'Italia ma necessita poca acqua, la sua fioritura è abbondante lungo tutta l'estate e ha bisogno di pochissimi interventi idrici. Poi altre novità tipiche dalla Sicilia, le faccio vedere il coprosma, è una pianta molto brillante anche se non porta uno specifico fiore, si presenta veramente brillante lungo tutto quanto l'anno. Questo è un Teucrium molto versatile per bordure, per tutto quello che concerne un bordo gas. Accanto c'è un'eremofila molto profumata, ha un profumo quasi di lavanda e queste sono delle novità un pochino dalla Sicilia, tutte ovviamente concettualmente che rispettano le nuove tendenze green della produzione. Ecco, quindi sono adatte per esempio, se pensiamo anche al verde urbano, alle aiole pubbliche possono essere ospitate anche lì? Sì, specialmente il Teucrium è una pianta che perfettamente si adatta agli aiole pubbliche, ha anche una grandissima capacità di scambio, di trattenere anidride carbonica e rilasciare ossigeno e è stata sviluppata anche per questo inerente a un ambiente urbano. E queste sono tutte piante made in Italy? Sì, tutte piante made in Italy, nello specifico queste sono tutte prodotte in Sicilia. Va bene, grazie molte. Arrivederci al prossimo video.